Ciao e bentornato! Nella lezione di oggi andremo ad analizzare quella che è una richiesta che mi viene posta spesso sia dai clienti che da alcuni colleghi o da chiunque mastichi un po' di marketing digitale però non ha molta voglia di sbirciare le funzionalità online e magari preferiscono avere la soluzione già predefinita e quindi oggi voglio darti la soluzione predefinita alla domanda come faccio ad utilizzare Instagram da computer o meglio, è possibile caricare delle foto su Instagram direttamente dal mio computer, dal mio laptop, dal mio tablet, dal mio PC? La risposta è sì Quindi, resta connesso e oggi andremo a vedere come utilizzare bene questa funzionalità e iniziare a promuoverti direttamente da PC Eccoci qua, adesso andremo a vedere come utilizzare direttamente da computer Instagram Ed evitare l'importanza però se hai un Mac, se utilizzi Linux oppure Internet Explorer Ed evitare l'importanza che tu vada a scaricare sul tuo computer Google Chrome Questa funzione diciamo che funziona proprio solo con Google Chrome Quindi è necessario che tu vada a installarlo sul tuo computer o verificare che tu ce l'abbia già e inserirlo e farlo funzionare Quindi una volta che tu avrai installato Chrome e avrai la schermata di Chrome quello che dovremmo andare a fare è principalmente questo Quindi adesso andremo a vedere insieme proprio quali step seguire Allora, la prima cosa è entrare sul nostro account Instagram Io ce l'ho già memorizzato quindi dovrei fare in fretta ad entrare Eccoci qua Quindi, adesso cosa dovremmo andare a fare? Una volta che abbiamo la schermata di Instagram Dobbiamo andare in alto sui tre pulsantini di Google Chrome Ok, quelle che ti aprono l'impostazione proprio del PC E poi dovremmo andare su altri strumenti E cliccare su strumenti per sviluppatori Ci si dovrebbe aprire una schermata, esattamente Poi, senza toccare nulla e stare attenti perché giustamente altrimenti non riusciremo a mettere mano Vedete che è già cambiata la schermata Dobbiamo andare qui e cliccare in alto su il computer e lo smartphone in sovraimpressione In alto quindi, ok? Una volta andata qui Io perché ce l'ho già impostato Dovete andare a cliccare su un determinato dispositivo Se utilizzate iPhone andate sull'iPhone Se invece volete la schermata di un Samsung andate su Galaxy È molto soggettivo Questo non determina quasi niente in merito L'importante è sceglierlo Perché altrimenti non andrà a buon fine la nostra emulazione Perché quello che stiamo facendo è emulando le funzionalità dello smartphone E lo stiamo cercando di riprogrammare e creare una sorta di emulazione sul nostro PC Ora dovremmo andare a ricaricare in alto sulla nostra pagina Senza toccare niente Lasciamo tutto come sta E adesso Guardate cosa appare Ok Ma sì Sulla schermata iniziale mettiamo Instagram E appare la funzionalità di aggiungere le foto Quindi adesso tutto ciò che dovremmo andare a fare è cliccare sul più Ci si aprirà la cartella per aggiungere le foto E possiamo procedere ad aggiungere una nostra fotografia Andiamo sui colori del marketing Vedete? Ci sono anche dei quadri Magari con questa foto non la vediamo Proviamone un'altra Ecco Metto Questa qui Antica Vedete i piccoli quadrini? Noi possiamo scegliere di fare Le stesse cose che facciamo sul nostro smartphone L'unica cosa che cambia sono le stories Le stories in diretta purtroppo non possiamo farle Ma niente ci vieta di caricare dei video Ok Quindi questo è quello che volevo farti vedere Per utilizzare O meglio iniziare Ad utilizzare Instagram da PC Spero ti sia stato utile Fammelo sapere nei commenti Ci vediamo al prossimo video